Controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato per ciò che riguarda il territorio nei confronti dello smercio e dell'uso di sostanze stupefacenti. Due controlli avvenuti nel pomeriggio di mercoledì. Un quarantenne è stato fermato in Via Redentore e nella tasca dei pantaloni sono stati trovati 19 grammi di ascisce, mentre 6 grammi di ascisce in involucri di carta a Stagnola sono stati trovati in possesso di un ventenne fermato in Via Melfa. Entrambi gli uomini sono stati segnalati in prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.